700 kg di marijuana al valore commerciale di 3 milioni di euro, 70 grammi di cocaina, un fucile, 4 pistole, munizioni, 1,8 kg di esplosivo, 10 metri di miccia, 59 monete romane sequestrati, 3 persone arrestate. Questo è il bilancio di un'operazione antidroga condotta dai carabinieri del comando provinciale di Nuoro a Orgosolo. Al blizza hanno preso parte anche i militari delle squadriglie di Nuoro e Pratobello, il nucleo di elicotteri di Olbia e i carabinieri dello squadrone cacciatori di Sardegna. I manetti sono finiti Salvatore Musina, 51 anni, Giovanni Giuseppe Mereu, 59 anni e il figlio Salvatore Luciano, di 27, tutti i complecedenti di polizia. I particolari del blizzi che ha portato ad uno dei maggiori sequestri registrati in ambiente urbano, almeno in Sardegna, sono stati resi notti stamattina nel corso di una conferenza stampa dal colonnello Franco Di Pietro, comandante provinciale, dal tenente colonnello Saverio Auccello, comandante del reparto operativo, dal maggiore Michele Cappa, comandante del nucleo investigativo. L'operazione è iniziata lunedì con la perquisizione dell'abitazione di Musina, all'interno della quale i carabinieri hanno trovato 90 kg di marijuana, un fucile calibro 12 con la matricola Brasa, una pistola calibro 38 e 59 monete di epoca romana del primo quarto secolo. I carabinieri hanno anche esteso la perquisizione all'abitazione di Giovanni Giuseppe Mereu e del figlio Salvatore Luciano, che ha portato alla scoperta di altri 30 kg di marijuana, 13.000 euro in contanti, presunto frutto dello spaccio, una fototrappola. I militari hanno deciso di estendere le perquisizioni a tutti gli immobili nella disponibilità del Mereu, trovando altri 134 kg di marijuana, 1,8 kg di esplosivo da cava, 8,5 metri di miccia detonante e 1,5 metri a lenta combustione, due pistole calibro 7,65 con la matricola Brasa. Infine, in un edificio disabitato, sempre a Orgosolo, i carabinieri hanno scoperto un deposito di 351 kg di marijuana, 70 g di cocaina e una pistola calibro 9x21. Sono in corso accertamenti per scoprire chi avesse a disposizione l'edificio disabitato. L'operazione dei carabinieri sono andate avanti per diversi giorni a causa dei controlli effettuati negli edifici nella disponibilità degli arrestati. Il GIP del Tribunale Nuo ha convalidato gli arresti, anche se è disposto alla scarcerazione di Giovanni Giuseppe Mereu. Proseguono le indagini dei carabinieri per ricostruire tutta la filiera della produzione di marijuana, dalla coltivazione allo spaccio, attività che avrebbe garantito ingenti guadagno agli arrestati.